alla collaborazione interistituzionale e informe che adesso siamo qui per questo, per cominciare a capire come e cominciare a declinare questa collaborazione, cosa significa, chi coinvolge, in che tempi. Quindi, bene, io ringrazio davvero tutti i presenti di questo primo tavolo, i contributi sono stati tanti e gli stimoli altrettanti. Ora entriamo nel merito di quella che è, grazie ancora all'assessore, al direttore generale, grazie, entriamo nel mentre che facciamo il cambio di tavolo e riavviamo lo streaming, introduco quindi la seconda sessione di questa mattinata in cui, diciamo, cominceremo a definire il programma di lavoro che abbiamo immaginato per i prossimi mesi e forse direi per il prossimo triennio. E quindi chiamerei qui al tavolo con me a dividere questa responsabilità il professor Roberto Balzani, presidente dell'Istituto per i beni culturali della Regione, nonché anche presidente del sistema museale di Ateneo dell'Alma Mater, e quindi, diciamo, in questa doppia veste, ma io lo voglio vicino a me come presidente in questo momento dell'Istituto, e il dottor Claudio Lombroni, che è responsabile del servizio Biblioteche, Archivi e Musei dell'Istituto. Ecco, insieme adesso cercheremo di delineare la nostra proposta di lavoro, sia in termini culturali che in termini poi più operativi. E quindi do volentieri subito... Ah, ecco, si è sposato qua al computer, benissimo. Do volentieri subito la parola al professor Balzani, che nel suo modo molto efficace ci porta dentro la questione, cioè la lettura contemporanea del patrimonio dei musei. Grazie. Grazie.